Buonasera ben ritrovati a tutti voi da Sanità Amica, la nostra rubrica dedicata alla salute a cura dell'azienda Usle Toscana Centro. Questa sera parleremo di un tema giustamente molto sentito dai cittadini, le liste di attesa. Talvolta ci troviamo a denunciare situazioni con liste di attesa estenuanti, anche mesi e mesi per attendere una visita o un controllo specialistico. Bene, da ormai più di un anno l'azienda sanitaria ha messo in campo nuovi strumenti. Cerchiamo di capirne di più con i nostri ospiti in studio, a cominciare dal dottor Giancarlo Landini, buonasera e benvenuto, direttore del dipartimento specialistiche mediche della Usle Toscana Centro e accanto a lei abbiamo il dottor Leonardo Pasquini che è invece il direttore del CUP metropolitano dell'azienda Usle Toscana Centro. Buonasera e benvenuto anche a lei. Buonasera a tutti, buonasera. Iniziamo appunto da Landini. Sulle liste d'attesa voi state lavorando da tempo come azienda sanitaria, com'è possibile risolvere questo problema e abbattere i tempi per quanto possibile, abbattere le attese. È un problema veramente molto importante, è una delle questioni più dibattute sulla sanità e più sentite dai nostri cittadini. La nostra idea è di tentare di risolvere il problema superando il concetto stesso di liste d'attesa. Come si fa a fare questo? Prima di tutto dobbiamo mettere insieme tutte le nostre forze, perché fino a ora le abbiamo disperse fra ospedale e territorio, tra specialistica ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Noi abbiamo messo tutte insieme delle liste uniche, con un governo unico anche di queste liste che è data dai nostri dipartimenti. Il mio è il dipartimento delle specialistiche mediche, quindi governa tutte le specialistiche che si riferiscono all'area medica, sia in ospedale che sul territorio. E già questa unificazione ci dà una potenza di fuoco che è decisamente superiore rispetto al passato. Inoltre noi vogliamo affrontare il problema e lo stiamo affrontando non più con una lista di tipo temporale, cioè il primo arrivato, il primo servito, come avviene in ristorante o in pizzeria. In sanità è ben diverso, bisogna servire prima chi ha più bisogno. Quindi noi stiamo facendo e lo stiamo applicando delle liste con priorità clinica. Quindi chi ha bisogno di essere visto subito e visto subito, chi può essere visto dopo o sarà visto dopo. La priorità clinica al centro di questo progetto, vediamo il titolo, è il Fast Track. In che cosa consiste? Consiste che oltre a una priorità clinica, e quindi le nostre prestazioni sono fatte entro tempi determinati in base alle necessità del paziente, abbiamo messo un sistema di contatto diretto Fast Track fra la medicina del territorio di medicina generale e la specialistica ospedaliera attraverso un numero verde dedicato ai medici di medicina generale, il quale di fronte a un'urgenza differibile, cioè a un paziente che ha bisogno di essere visto in maniera urgente, ma che può essere differito di qualche giorno perché quelli emergenti vanno direttamente al pronto soccorso. Se invece questo l'urgenza è di tipo differibile, può attivare questo servizio e ha una visita e una presa in carico di questo paziente in 24-48 ore. Questo è importante che il medio di medicina generale telefoni con questo numero verde che garantisco ai colleghi ha una latenza di attesa veramente molto breve, c'è un help desk esperto che risponde in 30 secondi a questa telefonata, è molto importante farla perché il paziente esce dall'ambulatorio con la prenotazione ed essendo malati più critici, che hanno un'urgenza differibile, è bene la sicurezza di tutti che il paziente abbia già la sua prenotazione e sapere dove andare quando esce dall'ambulatorio del medico. Il medico di medicina generale quindi funge un po' da filtro in questo caso ed è fondamentale? Ed è fondamentale, noi ci abbiamo già parlato, ci stiamo parlando, li stiamo coinvolgendo nel nostro sistema, hanno in mano la situazione praticamente, che devono scegliere a quale priorità clinica inviare il paziente e attivare il fast track quando ce n'è bisogno. Da noi sta a rispondere alle loro esigenze in tempo utile. L'attenzione in questa prima fase del fast track è stata concentrata soprattutto su alcuni gruppi di patologie, quali in particolare e perché questa scelta? Le patologie cardiovascolari sono state quelle prese subito in considerazione, date la loro numerosità e la loro importanza. Abbiamo quindi attivato percorsi fast track vascolari, qui si permette la diagnosi di malattie vascolari periferiche, faccio un esempio della trombosi venosa profonda, appunto in tempi molto brevi, compresa anche l'esecuzione di un ecocolordoppler oltre che alla visita e l'impostazione della terapia dei pazienti. Questo ha permesso di evitare il ricovero di questi pazienti, in passato questi pazienti andavano al pronto soccorso e poi venivano anche ricoverati. Oggi possiamo trattarli con questo sistema tranquillamente in sicurezza a domicilio. L'altra è la parte tutta cardiologica, la consulenza cardiologica, pazienti che hanno dei problemi cardiologici significativi ma non emergenti e gravi da dove andare al pronto soccorso possono essere visti in questa maniera. Devo dire che questo servizio sta funzionando molto bene perché entro quei tempi prestabiliti noi riusciamo sempre a garantire la nostra prestazione. Questo perché? Perché noi abbiamo un monitoraggio della nostra offerta, cioè non è più come prima in cui la nostra offerta veniva data e lasciata lì. Oggi abbiamo un sistema con il CUP esperto che noi abbiamo di poter aggiustare l'offerta in base alla domanda. E a proposito di operatività siamo andati a vedere al nostro ospedale, all'ospedale Santo Stefano, come poi si traduce concretamente questo progetto nella vita quotidiana del presidio ospedaliero. Allora sentiamo che cosa ci ha raccontato e spiegato nel dettaglio il dottor Pasquale Palumbo. Guardate e poi torniamo in studio. Dottore, per le aree di sua competenza, quindi quella neurologica e geriatrica, che cosa è cambiato dall'introduzione di questo sistema? Con questo sistema dai primi di novembre, soprattutto per la visita neurologica per la quale è richiesta un accesso rapido. C'è la possibilità per i territori di Firenze, Prato, Pistoia e Empoli di accedere a una visita neurologica in fast track in maniera organizzata e questo succede anche attraverso una collaborazione con Careggi, oltre che con la nostra azienda Toscana Centro. Quante visite riuscite a garantire in tutte le aree dell'azienda? Noi riusciamo a garantirne 28 visite settimanali, suddivise nel seguente modo, 5 per il territorio di Pistoia, 5 di Prato, 7 di Firenze, 5 di Empoli e 6 di Careggi, per un totale di 28 visite settimanali. Nel mese di febbraio abbiamo erogato complessivamente per tutto il territorio 22 visite in fast track, quindi vuol dire che comunque su un'offerta di più di 100 visite mensili ne abbiamo occupati 22 posti, il resto dei posti vengono comunque utilizzati. Però è per dire che noi al momento siamo in grado di dare un'offerta che è superiore alla domanda, quindi riusciamo a soddisfare questo fabbisogno. Vogliamo fare alcuni esempi concreti. In quali casi il paziente che ha una determinata sintomatologia ha diritto ad accedere al fast track? Ad esempio, un paziente che è affetto da una cefalea, in alcuni casi il medico di medicina generale sa che quando la cefalea ha determinate caratteristiche, una cefalea improvvisa, con delle caratteristiche anche di localizzazione posteriore, è un paziente che va in pronto soccorso e quindi lì si entra in un campo dell'emergenza urgenza che non è attinente a quello che stiamo dicendo. Ma quando invece il paziente ha un mal di testa che non rientra in queste caratteristiche ma ha delle problematiche dove ad esempio, per fare un esempio concreto, il dolore è persistente, il medico di medicina generale può decidere di mandarlo a una visita di fast track. Vuol dire che poi il neurologo dopo averlo visitato da un lato può sgravare il pronto soccorso di un afflusso di pazienti che magari in mancanza di questo tipo di percorso andrebbero in pronto soccorso e dall'altro può garantire una presa in carico del paziente il quale poi dopo in base alle problematiche che esprime può essere sottoposto a una serie di accertamenti oppure a visite di controllo successive e quindi in questo modo noi cerchiamo di garantire non solo una porta d'accesso appropriata per il disturbo del paziente ma anche un'adeguata presa in carico. Abbiamo sentito anche l'esempio di un mal di testa, in questo caso questo sistema riesce a dare una risposta rapida ai casi che possono essere anche piuttosto preoccupanti. Ecco, dottor Pasquini, questo sistema è steso a tutta l'azienda sanitaria oppure riguarda soltanto alcuni territori specifici? No, questo sistema è steso a tutto il territorio dell'azienda sanitaria, azienda USL Toscana Centro, quindi riguarda tutti i territori di Prato, di Pistoia, di Firenze e di Empoli. È un sistema che possiamo dire è quasi completamente a regime, perché? Perché ormai è da alcuni mesi che noi assistiamo a circa 1200 persone che utilizzano il servizio in tutto il territorio e 1200 persone sono tante perché permettiamo a queste persone un accesso rapido alle prestazioni, un accesso rapido a quelle prestazioni anche di forte bisogno e mi riferisco alla consulenza cardiologica perché è il sistema di punta del FastTrack ai percorsi vascolari, ma non ultimo in termini numerici è tutto il sistema della radiodiagnostica, in particolare tutte le ecografie e il sistema delle RX dirette. Questo progetto è stato inaugurato, lo ricordiamo, nel settembre 2016, ecco dall'attivazione ad oggi quali sono stati i percorsi più richiesti? Non vorremmo definirli più gettonati, però sono i più richiesti. No, i più richiesti, indubbiamente il percorso più richiesto sia anche per cultura e di confronto dei clinici è la consulenza cardiologica. Tenete conto che sulla consulenza cardiologica abbiamo una forte integrazione fra l'azienda USL Toscana Centro e l'azienda universitaria ospedaliera di Careggi e su queste basi abbiamo poi lavorato sui percorsi vascolari e l'ultimo in termini numerici che è partito nel dicembre del 2017 è il percorso del sistema radiologico. Questi sono i tre percorsi principali, ma noi entro breve concluderemo tutto il percorso delle urgenze fast track con il codice di priorità U per l'area medica e a seguire tutta l'area chirurgica. Per quali liste abbiamo ottenuto una riduzione dei tempi di attesa? Indubbiamente la riduzione dei tempi di attesa noi abbiamo avuto un vantaggio, è che concentrando l'unica offerta su un unico database riusciamo a dare delle risposte dove noi prioritariamente diamo una risposta nella zona di stretto di competenza, per essere chiaro diamo una risposta ai cittadini di Prato su Prato, ai cittadini di Pistoia su Pistoia e ai cittadini di Firenze su Firenze, ma coscienti che avendo un'unica offerta possiamo anche nel momento del bisogno per dare risposte immediate e anche chiedere al cittadino un piccolo sforzo per una zona limitrofe. È chiaro che concentrando le istanze in un pool di collaboratori esperti noi tendenzialmente diamo una risposta legata al territorio, ma è chiaro sui cittadini di Firenze e sui cittadini di Prato, utilizzare anche l'offerta dell'azienda ospedaliera di Careggi è indubbiamente un valore aggiunto diretto e preciso. Valore aggiunto questo progetto sia per i pazienti, lo abbiamo già ampiamente spiegato, ma anche per la stessa azienda sanitaria, perché poi si diminuisce, come già stato accennato anche nell'intervista, inutili accessi al pronto soccorso, o meglio si parla già di un boom di richieste, di una difficoltà anche di smaltire questa richiesta di accessi al pronto soccorso, questo sistema cerca di razionalizzare tutto quanto? Noi abbiamo fatto sì che abbiamo un percorso privilegiato con la medicina generale, ma stiamo studiando anche un sistema di supporto utilizzando i fast track anche per le uscite più rapide dai pronti soccorsi, perché è chiaro se mettiamo a disposizione il sistema del fast track anche ai nostri professionisti dei pronti soccorsi, tendenzialmente potremmo anche ridurre la presenza del cittadino al pronto soccorso. Chiudiamo allora con Landini, guardiamo un po' al futuro, il fast track sarà esteso anche ad altri tipi di patologie e quindi ad altre discipline? Assolutamente sì, è un sistema generale di superamento del concetto di lista di attesa, perché il concetto è noi non facciamo attendere i cittadini ma gli diamo quella prestazione al momento giusto e lo dobbiamo fare su tutta, quindi lo facciamo su tutte le specialistiche di area medica, cardiologia, vascolare, neurologia, geriatria, dermatologia, tutte le specialistiche di area medica, anche di quella chirurgica e naturalmente tutta la parte diagnostica, con il concetto della rete che è fondamentale di mettere insieme le nostre risorse e con il sistema esperto che noi abbiamo, ottimizziamo anche l'utilizzo di tutti i posti disponibili, non rimangono mai vuoti perché possiamo sbloccare i posti e quindi avere la possibilità sempre di dare a tutti una risposta in tempi rapidi. Siamo arrivati al termine della nostra puntata, allora grazie ai nostri ospiti, il dottor Giancarlo Landini e il dottor Leonardo Pasquini per averci fatto compagnia, grazie per essere sempre a noi. Grazie, buonasera, a presto. E grazie a tutti voi per averci come sempre seguito, la nostra rubrica Sanità Amica torna giovedì 26 aprile alle 20 su TV Prato. Buona serata, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.